ciao a tutti questo è il nostro modo di augurarvi di stare bene cioè beh stiamo per incontrare delle persone che ci parleranno un po di loro e quindi parleremo con loro di come il coronavirus di come questo periodo ha influenzato la loro vita ma l'ha influenzata tirando fuori la cosa positiva che ci può essere cioè che cosa hanno scoperto di loro che cosa gli ha trasmesso questo periodo a che cosa hanno pensato come questo periodo ha influenzato quello che fanno la loro arte il loro modo di vivere così ne approfittiamo per avere nuovi spunti per conoscere nuove persone e per pensare anche rispetto a noi stessi a che cosa stiamo facendo oggi parliamo con diego bassignana ah The Piano Painter ma prima sigla grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. E grazie a te che mi hai dato questo spunto di questa melodia, voglio dire. Guarda, tu sei un maestro. Gli spettatori lo devono sapere, sei stato tu che mi hai detto cominciamo. Bravo, bella. Io l'avevo fatta un po' più da chiesa, tu l'hai fatta più così, ti ringrazio. Senti, grazie per te. Come ti ho detto prima, questo è un po' un modo di dare spunti, di parlare un po' insieme rispetto a questa situazione nostra. No, ma con un'ottica così, vista un po' sul domani, con uno sguardo ottimista, ecco, in un mondo in cui si sente tanto notizie tristi, notizie difficili. Vogliamo dare un po' di apertura. E allora volevo un po' parlare con te di questo periodo proprio, perché vedo che ti tieni impegnato, tra l'altro vedo componendo, suonando, eccetera. Però volevo capire se in questo periodo qui, così particolare, così unico, no, finora, che cosa hai scoperto di te? Hai scoperto qualche cosa che non sapevi? Più qualcosa che non sapevo, sono rientrato in contatto con una parte mia che era stata messa un po' da parte. Cioè, questo periodo, secondo me, è un periodo che, a parte le persone che sono in grave difficoltà, è straordinario. È una possibilità piena di ricchezza di ritornare a trovare un contatto con quelle cose che sono veramente importanti e essenziali dentro di noi. Quello che è successo per me è stato questo. Dopo una fuga verso Como, per ritrovare un amico che non vedevo da un sacco, dovevamo passare un weekend a Como, divertirci un po'. Appena arriviamo a Como, succede che arrivano gli avvisi del coronavirus e quindi bisogna rientrare immediatamente. E, diciamo, la prima settimana, settimana e mezza, le scuole chiuse. Io insegno pianoforte, le scuole medie musicali, quindi tutto chiuso. E devo essere onesto, l'ho dedicata all'ozio totale. Cioè, ne ho approfittato in lungo e in largo, cioè mangiavo, dormivo, mangiavo e dormivo, proprio perché venivo da una tournée in giro per l'Italia. Vabbè, sono successe alcune cose personali particolari, tra cui una relazione che è finita. E questo è stato, insieme a questo, insieme al coronavirus, un'occasione per ritornare un po' a me, no? Quindi, per lavorare su di me e affrontare quelle tematiche che sono un po' scomode, no? Che cos'è veramente importante nella mia vita? Che cos'è che mi entusiasma? Che cos'è che mi dà gioia? In cosa, dove mi vedo fra un anno, fra due anni, fra cinque anni, che tipo di contributo voglio dare a me e agli altri? Che cosa ho bisogno realmente? Quali sono i progetti lasciati e mai portati a termine? Quali sono le cose in più, un surplus, che mi appesantiscono? Tutta una serie di domande che sono andato a pormi durante questo periodo, seguendo dei mini corsi che ho fatto di un percorso di crescita personale, che mi ha portato in giro per il mondo, si chiama Avatar. Sono dei mini corsi, tra l'altro, gratuiti per chiunque, per chiunque volesse, diciamo, affrontare delle tematiche importanti nella vita, tra cui la gestione dell'attenzione, delle convinzioni, la gestione, io ho fatto il mini corso del perdono, dell'integrità personale e dell'allineamento della vita, no? E cosa sono? Sono dei piccoli esercizi molto concreti, basilari, che ti riportano attraverso letture, domande e cose molto pratiche, a face to face, faccia a faccia, con te stesso, e sei tu che decidi il grado di onestà che vuoi avere in quel momento con te stesso, il grado di profondità che tu vuoi andare a toccare queste cose. Quindi questo periodo è stato molto interessante, perché totto l'ozio è nata questa fase di riguardarmi dentro, riscoprire le cose che sono importanti, anche non far nulla, per esempio, non far nulla. Immaginati, certe qualità dell'essere umano nascono solo nei momenti di pace e tranquillità. Pensa Einstein che diceva, prima di dare la soluzione al problema, io penso, mi pongo la domanda e penso a qual è la domanda migliore, e poi dopo gli ultimi 5 minuti li dedico alla risposta, no? Cioè, questo periodo di introspezione, il 95%, per lui era il 5% e era poi quello che applicava, no? Io penso a un artista, ad esempio... Parlando di Einstein, mi viene in mente questa cosa qui, che c'è un racconto, si racconta che sua mamma, quando lui tornava a casa, lui diceva, lei gli diceva, Albert, oggi a scuola hai fatto buone domande? Vedi che si ricollega, forse hai imparato bene dalla mamma a fare le domande, a farsele anche le domande di lui. Questa è una cosa molto interessante che tu citi, perché poi noi siamo in un modo o in un altro il riflesso delle matrici dei nostri genitori, della nostra vissuto, no? E quindi andare anche, riuscire a un certo punto, prendersi quello spazio per guardarsi un attimino che cosa sta succedendo nella mia vita, che cosa ne ho fatto della mia vita negli ultimi 5 anni, come sto investendo le mie energie nella settimana. Esempio, voglio stare a vedere tutte le notizie negative che passano sui telegiornali o voglio incominciare a selezionare e dire, ok, quanti telegiornali ho bisogno di guardare? Uno, dopo che ne hai guardato uno, cosa stai a vederne altri 50 che ti ripetono sole e morti, eccetera, no? Occorre ritornare a un genere di pulizia mentale, emotiva, eccetera. C'è gente qualificata per fare certe cose. E poi ci sono dei percorsi a portata di mano di tutti, dall'esercizio fisico, allo yoga, alla meditazione cina, appunto agli esperti, a gruppi in cui si vanno a esplorare certe cose. L'importante è fare qualcosa, perché se no la nostra vita diventa un automatismo, questo è quello che ho sperimentato io, no? Diventa un automatismo di cose che noi ci procrastiniamo. E la cosa più importante è qual è, ad esempio parlo per me e per un artista, no? Tu vedi qua c'è il piano, no? Il piano, da sto benedetto piano. Volevo proprio andare lì al piano, ecco. Cioè, la musica nasce dal silenzio. Se io non porto silenzio nella mia vita, cosa che io sono portato a fare tante cose, siamo portati ad agire, a avere sempre progetti, ma se non ci ricaviamo dei benedetti spazi di silenzio, di tranquillità, però vanno anche un po' gestiti. Io sto lì a guardarmi le serie tv, cioè allora come ho gestito quel mio spazio di... non è uno spazio vero di silenzio, no? Ho il telefono e cose, no? È occupato da altro, hai occupato il silenzio. Esatto. Uno spazio in cui... No? Qui mi viene in mente quello sguardo dei bambini che... sono così e ascolti. Cosa c'è in questo momento? C'è rabbia? Ok, c'è rabbia. C'è nervosismo? Ok, c'è... Ascolta, ascolta. Poi piano piano le cose cambiano, mutano, perché attimo dopo attimo le cose cambiano. E la musica nasce quando si crea uno spazio. Se no, quello che io vado a rifare sul piano è esattamente la stessa cosa che ho fatto prima, che ho già fatto, eccetera. Prima tu mi hai dato una melodia, io subito sono andato lì a pacioccare. Poi dentro di me è nata un'idea, ma quell'idea ha bisogno di tempo per essere espressa. Se no te la esprimo in quel momento con le risorse che ho. Quindi ci sono diversi livelli di profondità che solo attraverso dei tempi di silenzio di ritrovare, in cui ritrovi te stesso, perché alcuni nel silenzio impazziscono, no? Però potrebbe essere anche tipo stai calmo, ti leggi una cosa tranquilla o ti poni certe domande o ti ascolti e da lì, da lì nasce qualcosa di veramente interessante, no? Ecco, questo è un po' quello che è successo, diciamo, in questo periodo, tra l'altro, in cui sono stato abbastanza assente dai social, concerti, cose, tutta una serie di cose, proprio per esigenza personale e devo dire che colgo questo coronavirus, non me ne vogliono i medici, non me ne vogliono gli altri che rispetto, però lo colgo come una benedizione per me da un certo punto di vista. Si, si tratta di, insomma, cogliere il bicchiere mezzo pieno, insomma, stai dicendo, insomma, sappiamo tutti le tragedie che stanno succedendo, ma cercando anche, come dicevo all'inizio, di uscire sull'ottimismo, di cercare una cosa buona, tu ci trovi questo, un tempo in più per lasciare che le cose, insomma, crescano dentro. Crescano e allo stesso tempo anche, a un certo punto, tu maturi la consapevolezza e prendi delle scelte, no? Per esempio, io in questo periodo qua, una delle scelte che ho compiuto, per esempio, proprio ieri sera, due sere fa mi sono ritrovato a vedere la serie tv e passare quattro ore attaccato allo schermo. A un certo punto mi sono fermato e ho detto, aspetta, cosa voglio fare? Voglio seguire queste serie tv all'infinito? Oppure mi sono andato a una scadena e ho detto, io mi guardo un episodio al giorno, questo è quello che ho scelto per me. E la gente così dovrebbe dire, ritornare a dire, secondo me, come voglio investire il mio tempo? Adesso hai tanto tempo, sei a casa, come lo vuoi investire? Adesso c'è sicuramente tanti impegni, insomma, pensiamo anche a chiedere i figli, stare dietro a tante cose, forse ancora di più rispetto ad altri momenti, però magari c'è anche spazio per decidere un tempo proprio libero da ogni altra spinta, da ogni altra richiesta. Questa è una cosa importante. Secondo te, quando finirà questo coronavirus, con quello che vuol dire finirà, che non è neanche chiaro, ma insomma, quando si tornerà a una vita, diciamo, alla vecchia maniera, uscendo e incontrandosi, secondo te cambierà qualcosa? Cioè, le persone si porteranno dentro qualcosa, insomma, ma tu che cosa pensi che ti porterai dietro? Che cosa pensi che ti rimarrà di tutto questo? Se io ti parlo della mela, tu la mela non ne potrai mai assaggiare il gusto, mentre se io ti offro una mela, tu assaggi la mela e sai che gusto ha la mela. Può appassionarti la mela, può spaventarti la mela, può darti delle belle sensazioni o delle cose nuove mai sentite. Io credo che la differenza la farà molto quello che le persone decideranno di seguire. Intanto sarà una decisione. Cosa voglio seguire? Perché ci sarà un ricordo di questo momento. L'unica cosa che ci sarà sarà un ricordo più o meno vivido di quello che abbiamo vissuto. E quando tu hai vissuto una cosa, quella cosa ha solo due possibilità. O fai finta di non riconoscerla, riconoscerla o la riconosci e allora ti saraprà sempre essere un pochettino da cartina di tornasole nella tua quotidianità e ti dirà Ah, come sta andando? Ti ricordi là come stavi? E se là è stato brutto, magari stavi meglio adesso. Se là stavi bene e quindi se là stavi male, ora stai meglio, puoi apprezzare quello che hai. Se qui nel coronavirus hai avuto un'occasione di espansione, di tranquillità, di rilassamento, di apertura e poi ritorni nella frenesia e non ritrovi più quello spazio, allora sai che l'hai vissuto e sai anche come l'hai vissuto. Quindi in entrambi i casi sarà un ricordo che affiorerà in alcuni momenti perché lo decidi o perché ti arriverà e a un certo punto ci sarà la decisione della persona di dire cosa faccio. E di nuovo sta lì. Secondo me la chiave importante a un certo punto è prendere coscienza e fare una decisione. Se no in un modo o in un altro saremo sempre al bando delle nostre istinti, delle nostre abitudini o di quello che la società e gli altri ci impongono. Senti Diego, io ti ringrazio e vorrei a questo punto un saluto al piano. Come abbiamo fatto questa introduzione facciamo questo saluto. Cosa ne dici? Facciamo un saluto. Guarda, vi lascio. Vai, vai. Una delle cose interessanti che ho detto cosa faccio questo periodo qua dopo di assenza con la musica. Una cosa è un progetto che sto per realizzare che vi ho lasciato nel cassetto che è Pianoforte Creativo. cioè per un corso a distanza per genitori e bambini insieme per imparare il pianoforte attraverso una storia raccontata. E l'altra cosa ho detto facciamo una sfida una sfida a un amico e poi adesso si sta espandendo a più amici musicali. Partiamo da una scala e a distanza di una settimana al tempo che abbiamo bisogno ci confrontiamo esploriamo tutte le possibilità di questa scala e da lì creiamo un brano sulla base di sfide che ci diamo. Io a lui gli ho detto senti ma fai un brano che su questa scala che si chiama Scala Dorica dovete sapere che la Dorica viene dalla Grecia antica e fammelo parlare su un giaguaro e lui mi ha detto ok tu fammi una Scala Dorica e mi ha mandato un'immagine di alberi nel bosco con la nebbia e un sole che appare lontano lontano e questo è un assaggio di un brano che durerebbe 4 minuti e ve ne faccio sentire un pezzettino ok? che verrà pubblicato tra l'altro giovedì per chi è interessato sulla pagina mia quindi per chi vuole potete chiudere gli occhi un attimo e immaginarvi questa pineta con la nebbia è un sole opaco che da lontano li guarda buon buon Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sei evocativo, anche solo guardando. Perché è la musica che è evocativa. Ti ringrazio e ti saluti. Ciao.